cerchio ifior voi siete stati un tempo minerali voi siete stati un tempo vegetali voi siete stati un tempo animali e adesso dopo questo lungo cammino vi ritrovate ad essere in un corpo umano e vi chiedete ma oltre ad avere avuto un'influenza tutto questo sul mio percorso evolutivo quanto il mio essere incarnato nel mondo minerale nel mondo vegetale e in quello animale è ancora presente in me ed io vi dico figli e fratelli che allorché noi vi ricordiamo che avete attraversato questi mondi non diciamo soltanto che il vostro passaggio è stato un essere presente non dinamico ma anche che questo passaggio ha lasciato in voi delle tracce facilmente riscontrabili anche in ciò che voi siete adesso basta che voi vi osserviate nelle vostre preferenze di tutti i giorni osserviate il tipo di pietra preziosa che vi piace scopriate la vostra preferenza per un certo tipo di fiore o per un certo tipo di alimento vegetale scopriate la vostra attrazione per un certo tipo di animale o la vostra repulsione per qualche altro animale per trovare i segni di ciò che voi un tempo siete stati l'essere stato ognuno di voi un certo tipo di minerale vegetale o animale per anni e anni e anni ha impresso nel vostro corpo acasico le esperienze che quell'essere da voi animato ha vissuto se voi pensate a certe credenze dell'esoterismo della magia dell'astrologia e un po' di tutte le teorie esoterico spirituali potete vedere che vi è sempre stato un accostamento non soltanto tra l'individuo e particolari pianeti ma anche tra l'individuo e certe porzioni del mondo minerale o del mondo vegetale o del mondo animale questo accostamento deriva proprio dal fatto che ognuno di voi ha soggiornato principalmente in una determinata forma attraverso questi tre regni e il soggiornare in questa forma ha creato una sorta di empatia di attrattiva di vibrazione analoga tra ciò che voi ora siete e ciò che siete stati in passato grande è il disegno che potete osservare se pensate a tutto quanto vi abbiamo detto ultimamente riguardo all'evoluzione così grande che difficilmente è possibile per la mente umana riuscire ad osservarlo in tutte le sue diramazioni tuttavia sono sicuro che ognuno di voi può rendersi conto di quanto sia grande immenso e fantastico il disegno che colui che tutto è ha creato per voi intorno a voi in voi grazie a tutti grazie a tutti